L'idea che la Porto Robur Costa ha scelto per impostare la nuova stagione è molto chiara. Puntare forte su un gruppo giovane, con tutti i pro e i contro che questa scelta comporterà, e cercare di costruire le basi per un ciclo che possa durare nel tempo. Dopo nove anni ci aspettiamo ancora il sostegno della città, il sostegno di una città che ci vuole bene, a cui vogliamo bene, per la quale facciamo continuamente degli sforzi. Come più volte ho detto in questi anni, noi siamo qui perché siamo appassionati, ma anche per continuare a regalare a Ravenna, alla città che più di altre ha espresso pallavolo a livello nazionale e mondiale, fondamentalmente questo spettacolo. A condurre per mano il gruppo bizantino ci sarà Marco Bonitta, nella duplice veste di dirigente e allenatore della Consal. Credo che il nostro obiettivo, prima di parlare di obiettivo sportivo, sia un obiettivo interno che dobbiamo raggiungere, è quello di essere una squadra che entusiasma a se stessa mentre gioca e che riesce a trasferire questo entusiasmo anche alle persone che sono in tribuna, soprattutto quando siamo in casa, i nostri tifosi. Una squadra che sa giocare con autorevolezza, con consapevolezza dei propri mezzi e con un po' di sfrontatezza. Perché? Perché noi siamo giovani, la squadra è certamente tra le meno esperte, ma è certamente una squadra che ha una grossa dose di talento, che credo che con il lavoro, l'entusiasmo e anche qualche buon risultato possa venire fuori al meglio.